Un giovane di 28 anni è morto precipitando da Palazzo dei Consoli a Gubbio. È accaduto attorno all'ora di pranzo di oggi. La tragedia ha sconvolto tutta la città. Sul luogo della tragedia i carabinieri al 118, il giovane era molto conosciuto in città. Sulla sconvolgente tragedia stanno indagando i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Non è esclusa nessuna ipotesi. Accolgo con profondo sgomento e preoccupazione la notizia dell'ennesimo incidente mortale verificatosi in Piazza Grande a Gubbio. Una nuova tragedia che macchia un luogo simbolo della città alla quale senza la minima strumentalizzazione politica è necessario porre fine. Così il consigliere regionale Andrea Smacchi, Partito Democratico, commentando la morte del giovane precipitato dal muraglione di Piazza Grande. Si tratta dell'ennesimo triste episodio, spiega Smacchi, che coinvolge una città nel suo cuore più vivo ed è in queste occasioni che le istituzioni devono fare tutto il loro dovere per evitare il ripetersi di tali tragici eventi. È necessario, conclude, che ogni livello istituzionale lavori per far sì che il muro di Piazza Grande possa essere messo in sicurezza senza alterare o compromettere la struttura architettonica all'impatto visivo che da secoli caratterizzano la città.